Il bilancio della fase preparatoria è sicuramente positivo, positivo perché siamo riusciti a creare un gruppo in tempi veramente molto brevi, merito soprattutto del gruppo, probabilmente merito anche del nucleo che è rimasto dall'anno scorso, che ha permesso di far capire anche agli altri velocemente come si lavora a Padova, qual è la nostra cultura e quali sono i nostri obiettivi quotidiani. Quindi questo sicuramente ci ha permesso di poter lavorare con tranquillità e lavorare anche con sorriso.